Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere qui con noi oggi. Io sono Roberta Raffaetavici, direttrice di Nish e è un grande piacere oggi presentare un collega Nicola Manghi, un antropologo che ci parlerà del suo caso studio nell'isola di Tuvalu e questa tematica è molto vicina alle problematiche che noi viviamo tutti i giorni o che forse vivremo nel futuro qua a Venezia, quindi grazie Nicola per essere qui e rientra nella nostra, nella serie di seminari Waterscapes. Introduco brevemente Nicola, Nicola Manghi è antropologo, dopo aver completato un dottorato a Torino nel 2021 è ora ricercatore post-dottorale presso l'Ecole des Autitudes et Sciences Sociales a Parigi, no a Marsiglia, a Marsiglia giusto. Dal 2018 è anche Research Associate alla University of Waikato di Hamilton in Nuova Zelanda. Svolge ricerche etnografiche tra Tuvalu, Nuova Zelanda e Fiji. Ha curato e tradotto una raccolta di scritti di Bruno Latour, Essere di questa terra, guerra e pace al tempo dei conflitti ecologici del 2019 e l'edizione italiana di Nel tempo delle catastrofi resistere alla barbarie a venire, di Isabel Stenger, nel 2021, entrambi pubblicati da Rosenberg e Serietti. Nicola, grazie mille, a te la parola. Grazie, grazie, grazie Roberta, grazie a tutte le persone presenti, grazie a Nish per l'invito, sono molto felice di essere qua. Come diceva Roberta, i temi attorno ai quali è ruota la mia ricerca in questo posto trovano un eco piuttosto, in questo posto inteso come Venezia ovviamente, trovano un eco piuttosto urgente e oltretutto insomma sono anni che in qualche modo tramite rapporti personali con persone qua presenti come Pietro Consolandi la mia riflessione in qualche modo tiene presente di Venezia, insomma comunque Venezia è un luogo che ho frequentato in questi anni e al quale ho pensato insomma mentre ero a Tuvalu, mi è anche capitato che me ne parlassero delle persone a Tuvalu che erano stati a Venezia in caso di incontri internazionali e quindi è molto bello parlare di queste cose in questa sede. Allora, qua devo solo trovare il modo di mettere a tutto schermo questa presentazione, ah perché questo è zoom adesso, no. Allora, deve essere tutti scusati, scusatemi questa cosa che succede ovviamente ogni volta, l'ho fatto in PD, ah qua sì in effetti, visualizza, modalità schermo intero, perfetto scusatemi, questo non è conveniente, grazie. Allora, dopo ho pensato a che taglio dare a questa presentazione, ho cercato alla fine di dare un taglio politico e un po' diciamo interdisciplinario che comunque potesse essere interessante per sguardi provenienti da discipline diverse, sapendo anche che non parlavo in un contesto strettamente di antropologi, quindi appunto cercherò di dare un taglio politico a questa presentazione e di dettagliare un po' la questione politica inerente alla condizione di Tuvalu e quindi ho chiamato la presentazione dello Stato che affonda per ragionare anche attorno all'immagine appunto di Tuvalu, all'icona che Tuvalu è diventata. Questa, insomma, è una foto fatta dall'aeroplano, così, giusto per mettere un paio di foto dell'arrivo sul campo, un classico inizio antropologico, di qualunque resoconto antropologico e quindi uno scenario tipicamente esotico, diciamo, che incontra la nostra immaginazione più esotica. Allora, Tuvalu è un arcipelago composto da nove isole, come vedete sono piuttosto sparpagliate, sono molto distanti l'una dall'altra, questa non è una mappa molto chiara, purtroppo non ci sono delle ottime mappe di Tuvalu facilmente disponibili in rete, come vedete però, insomma, è un arcipelago di isole molto piccole ma molto sparpagliate, parliamo di 26 chilometri quadrati totali di terra, una popolazione di 11.000 abitanti, su una superficie di 750.000 chilometri quadrati di acqua, di oceano, quindi insomma, come vedremo anche dopo, un rapporto terra-mare piuttosto sperequato. Questo è il luogo in cui si trova Tuvalu, come vedete sta più o meno al centro del Pacifico Occidentale, appena sotto l'equatore, grossomodo a metà tra l'Australia e le isole Hawaii. Allora, tuvalu è spesso definita come l'isola che affonda, in inglese è The Sinking Island, è proprio una formula che viene evocata ogni volta che per qualche motivo esce un articolo su Tuvalu, quotidiani internazionali o siti di notizie, che è una tipica formula associata alla condizione di Tuvalu. L'isola che affonda è un topo, insomma ho scritto due righe giusto per accompagnare il seminario, è un topo se efficace perché permette di mediare un evento nuovo e sconvolgente, come la crisi ecologica, tramite figure di pensiero antiche e tutto sommato confortanti. il destino inesorabile di un'isola che affonda non dice nulla su cosa accada al resto del mondo, cioè l'isola che affonda permette di confinare l'evento drammatico che si cerca di visualizzare a un luogo preciso che si immagina anche che presto non esisterà più, tra l'altro, quindi insomma grosso modo confina sia dal punto di vista spaziale sia dal punto di vista temporale cioè la catastrofe in un luogo preciso e peraltro anche esotico. È un'immagine che può essere contestata diciamo anche proprio da un punto di vista empirico, cioè Tuvalu non è un'isola ma è un'arcipelago, che insomma è una cosa piuttosto diversa perché un'arcipelago non è un'entità puramente geografica a differenza di un'isola, ma c'è un'arcipelago è un'entità anche politica, culturale, storica, perché cosa definisca un'arcipelago, perché certe isole facciano parte di un'arcipelago, altre non facciano parte e insomma sono ragioni storiche, politiche e culturali a determinarlo e non la pura e cruda geografia. E poi Tuvalu non sta affondando tecnicamente perché di nuovo non è un'isola che affonda, non è un pezzo del mondo che scompare, ma sono i livelli del mare che salgono, di nuovo è un'immagine forse meno immediata dell'isola che scompare, però ecco a rigore di logica bisognerebbe dire che non sta affondando, ma casomai sta venendo sommersa, ma anche in questo caso poi è molto più complicato di così. Gli effetti che il riscaldamento globale e che l'innalzamento dei livelli del mare hanno sulle isole Tuvalu sono variegati dall'erosione costiera all'infiltrazione di acqua salata, che rende più difficili le coltivazioni, che spacca la pista di atterraggio, che produce inondazioni in varie parti di queste isole. Insomma, sono effetti che non sono ben rappresentati dall'idea dell'affondare. E quindi per parlare di Tuvalu mi interessa partire da quest'idea dell'isola che affonda e quindi parlare insomma delle politiche che stanno attorno alla rappresentazione di Tuvalu, perché Tuvalu è diventato un po' un meme, diciamo, della crisi ecologica, un meme nel senso tecnico, cioè un'unità culturale che si riproduce indipendentemente dalle condizioni di produzione di questa icona, di questa immagine, no? E quindi conviene fare, diciamo, una piccola archeologia, una piccola storia dell'icona dell'isola che affonda e di come a Tuvalu sia stata forgiata. Poi in altri luoghi, ci sono altri luoghi ovviamente che rinforzano lo stesso immaginario e in qualche modo tutti questi luoghi si fanno anche competizione per gli stralci d'attenzione che gli osservatori internazionali concedono a queste situazioni. Però qua ci interessiamo di Tuvalu. Quindi a me interessa denaturalizzare questa scena. Cioè noi immaginiamo la crisi ecologica, Tuvalu, l'isola che affonda. Io ogni volta che parlo con qualcuno mi dicono cosa fai, faccio un antropologo, di cosa ti occupi. Ma Tuvalu, appena dico Tuvalu, Oceania, riscaldamento globale, queste persone probabilmente non hanno mai sentito parlare, avranno sentito parlare di Tuvalu, però non è un nome che saprebbero rievocare a memoria, ma l'idea, isole, Oceania, riscaldamento globale affondano, è un déjà vu, no? Quindi io lo dico, ah sì sì certo, sì sì, Tuvalu, conosco. Ho notato tra l'altro che negli ultimi anni sempre di più questa cosa. Quindi è un'immagine che è molto presente, indipendentemente però dalle circostanze specifiche di questo luogo. Quindi a me interessa, e secondo me, il primo gesto antropologico da applicare a questa situazione è quello di cercare di denaturalizzare questa scena. Un primo modo è risalire, come dicevo prima, alla politica che preside alla produzione di queste rappresentazioni, quindi osservare come vengono create da quali attori. E in secondo luogo, rendere anche esplicite le poste in gioco di questa rappresentazione e di questa politica. Allora, questa, diciamo, è una foto simile a quella commessa all'inizio, in cui, che era una foto del mio arrivo sul campo, l'unica differenza è che lui è Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, che nell'agosto 2019 è stato in visita a Tuvalu. Le visite di questi personaggi, cioè, per un paese come Tuvalu, ho dimenticato di dire una cosa fondamentale, Tuvalu è uno stato sovrano, cioè Tuvalu, 11.000 abitanti, 26 km2 di terra, è uno stato sovrano. Quindi all'ONU ha un voto che conta esattamente come il nostro, il nostro inteso come quello dell'Italia. Quindi, per questi paesi, l'occasione di avere personaggi internazionali in visita è un'occasione di esposizione molto preziosa dal punto di vista politico, no? La pubblicità è immediatamente convertibile in un capitale politico di qualche genere. Io ero a Tuvalu in quel momento, però purtroppo non ero nella capitale, quindi non sono riuscito a assistere di persona a questa visita, anche perché il 2019 è stato un anno pazzo a Tuvalu, dove succedevano tantissime cose ed era impossibile stare dietro a tutte le cose che succedevano perché è molto difficile spostarsi nell'arcipelago. Sul sito delle Nazioni Unite ci sono una serie di fotografie della visita di Guterres molto interessanti, perché riproducono proprio in maniera molto stereotipata l'immaginario di cui parlavo prima. Quindi Guterres è arrivato, è stato accolto con danze, doni, ghirlande di fiori, è stato portato in canoa a osservare una porzione di terra artificiale che era stata appena realizzata per ospitare il Pacific Island Forum, quindi il più importante incontro politico del Pacifico che sarebbe, che Tuvalu avrebbe ospitato da lì a qualche settimana. Quindi, dice il primo ministro Enel Sotwana, che appunto porta in canoa, con l'ombrello, perché evidentemente pioveva, Guterres a vedere questa infrastruttura appena costruita. E poi Guterres va a vedere, insomma, si fa ritrarre mentre osserva, sgomento, gli effetti dell'escaldamento globale, guarda la costa erosa. Immaginiamo che guardi la costa erosa, perché poi da questa foto vediamo una persona che guarda la costa. C'è quest'idea a Tuvalu molto ripetuta che se non credete nel riscaldamento globale venite a Tuvalu per vederlo. Ma se si va a Tuvalu, si vede un'isola, cioè si vedono delle isole, non si vede il cambiamento in atto, ovviamente quindi fa molto parte dell'immagine, almeno del modo in cui il governo di Tuvalu cerca di utilizzare per le proprie finalità politiche questa immagine stereotipata, esotista dell'isola che affonda. C'è quest'idea molto empirista del venite a vedere il cambiamento climatico a Tuvalu. E Antonio Guterres è andato a vedere il cambiamento climatico a Tuvalu. E la cosa interessante è che poco dopo, qui come vedete era vestito come consono vestirsi quando si partecipa a incontri politici di rilievo nel Pacifico, quindi con insomma quelle che sono chiamate le mula shirts, che chiameremo le camicie hawaiane, insomma diciamo, come vedete prima c'è un, hanno la stessa camicia, no? Questa è una cosa tipica nei incontri politici nel Pacifico. In genere tutti i partecipanti hanno camicie o vestiti con gli stessi pattern. e poco dopo non ci sono le foto del travestimento, ma deduciamo che lui si sia cambiato d'abito e è entrato nella laguna di Funafuti, la capitale, l'isola che ospita la capitale di Tuvalu, e è stato ritratto da un fotografo, questa volta però vestito non più da diplomatico in visita presso il governo di Tuvalu, ma da capo della diplomazia mondiale immerso nelle acque che salgono. e si è fatto ritrarre appunto in questa foto che è diventata iconica, è diventata la copertina del Time e un'icona appunto in quel momento del discorso e delle raffigurazioni ecologiste a livello globale. In basso a sinistra adesso non si legge, ma insomma viene scritto che la foto è stata fatta a Tuvalu, ma nell'articolo contenuto nella rivista di Tuvalu praticamente credo che non sia nemmeno nominata, insomma si parla appunto di Guterres e del suo, di quanto si spenda per la causa del cambiamento climatico, ma di nuovo no, l'immagine dell'isola che affonda è totalmente estratta, estrapolata dalla realtà concreta di un luogo, con delle persone che ci abitano. Carol Farbotko, che è una geografa australiana, ha trovato questa formula molto efficace secondo me, parlando di wishful thinking, gioco di parole evidentemente con wishful thinking, e dice Tuvalu viene costruito come uno spazio assoluto, discreto e chiuso, in cui gli impatti del cambiamento climatico e le loro soluzioni sembrano più tangibili e più accessibili che nei grandi complessi spazi continentali o sulla scala del pianeta Terra. Quello che si diceva all'inizio, c'è questo immaginario che utilizza la natura isolana, arcipelagica in realtà, però comunque il fatto che Tuvalu sia composta di isole, per in qualche modo confinare a quelle terre la catastrofe che quei luoghi manifestano e ci rendono tangibile. Qui ho messo un'altra citazione di Michael Goldsmith, che è un antropologo che si è occupato di Tuvalu da 40 anni, che è professore con cui ho lavorato in Nuova Zelanda durante il dottorato e dopo, è un caro amico, e lui ha parlato di Tuvalu come un floating signifier, come un significante flottante, che è il concetto di Levi Strauss, poi utilizzato, insomma, che ha avuto fortuna anche in filosofia politica, utilizzato da Ernesto Laclau, comunque l'idea di un significante appunto che è libero di galleggiare, di fluttuare e di trasportare un significato che però ogni volta è astratto dalle condizioni particolari alle quali vorrebbe applicarsi. Quindi Goldsmith scrive, Tuvalu è una sorta di tabula rasa nell'immaginario globale, anche se spesso irritante per chi ha una certa conoscenza del luogo stesso, questo fascino da significante flottante può tutto sommato aver giocato a favore di Tuvalu nella sua ricerca di diventare un simbolo politicamente efficace. E quindi, insomma, ispirato da Farbot Co anche il mio gioco di parole, quindi c'è una dialettica tra la sinking island e il floating signifier, quindi c'è un parodosso di quest'isola che affonda e che diventa questo galleggiante, questo significante capace di galleggiare e spostarsi di discorso in discorso. La cosa interessante che aggiunge Goldsmith è l'idea che in qualche modo questa situazione per quanto prodotta tramite una cancellazione sostanzialmente dell'agency dei Tuvaluani e in generale insomma dei popoli del Pacifico offre però delle opportunità politiche o meglio dei margini di opportunità politica si offre offre la possibilità di essere in qualche modo riappropriata dagli attori ed è esattamente quello che capita a Tuvalu questa è una foto che ho trovato su internet di una protesta di qualche tempo fa non ho mai assistito una protesta a Tuvalu ogni volta che vedo foto di protesta a Tuvalu faccio fatica a figurarmele perché non è un luogo non c'è una sfera pubblica come potremmo immaginarla noi quindi faccio veramente fatica a figurarmi tutte le persone che conosco a prendere dei cartelli e scendere in piazza cioè in piazza in strada però tant'è questa è una foto di una protesta di qualche genere però appunto probabilmente è fatta anche per essere poi fotografata e mandata nell'infosfera diciamo e quello che leggete sul cartello è uno degli slogan attorno ai quali Tuvalu ha costruito la sua la sua politica mediatica internazionale diciamo ed è uno slogan che però racconta bene anche come Tuvalu cerca di posizionarsi nella sulla scena globale save Tuvalu to save the world beh manca il tu però save Tuvalu to save the world salviamo Tuvalu salvate Tuvalu per salvare il mondo c'è l'idea di Tuvalu come benchmark globale Tuvalu come punto di passaggio obbligato per la salvezza del pianeta cioè se Tuvalu in particolare alla COP di Parigi nel 2015 in cui Tuvalu insieme ad altri paesi dell'alleanza dei piccoli paesi insulari ha giocato un ruolo importante nell'abbassare l'obiettivo del del trattato firmato a Parigi dai due gradi rispetto al riscaldamento dell'epoca preindustriale alla temperatura media dell'epoca preindustriale a un grado e mezzo l'idea è con due gradi Tuvalu scompare un grado e mezzo Tuvalu sopravvive sopravvive anche il mondo cercare di rendere questo luogo così remoto così piccolo così sperduto un punto di passaggio obbligato all'interno di una equazione globale e quindi appunto cercare di inserirsi anche utilizzando strumentalmente queste rappresentazioni all'interno del discorso globale ora ciò che rende però effettivamente la condizione di Tuvalu anche una volta che siamo diventati consapevoli della natura in qualche modo fittizia esotica e imprecisa dell'icona dell'isola che affonda rimane comunque qualcosa che è effettivamente privo di precedenti a Tuvalu ovvero il fatto che uno stato rischia di scomparire fisicamente dal pianeta o meglio rischia di scomparire a causa di danni fisici subiti dal suo territorio che è una circostanza che per quanto faccia parte del nostro immaginario con il mito di Atlantide da più di 3000 anni non si è mai verificata in particolare non si è mai verificata da quando esistono gli stati nel senso moderno del termine e quindi appunto cerchiamo di capire come il governo di Tuvalu utilizza queste rappresentazioni stratificate o cerca di utilizzarle a proprio favore ho messo un appunto sulla convenzione di Montevideo sui diritti e i doveri degli stati che è un documento del 33 che non è stato adottato è un documento firmato da alcuni stati sudamericani che però è ritenuto contenere la definizione di stato più condivisa dalla comunità internazionale sia a livello accademico che a livello politico e in questa convenzione vengono presentate tre condizioni perché uno stato possa essere riconosciuto tale una popolazione permanente un territorio definito e un governo efficace ed esclusivo c'è anche una quarta condizione che però in genere viene definita come derivata dalle prime tre ovvero la capacità di entrare in rapporti con altri stati però appunto in qualche modo non è vincolante quanto le prime tre ora benché l'idea dell'isola che affonda suggerisca che il criterio più urgentemente a rischio nel caso di Tuvalu sia quello del territorio definito in realtà perché Tuvalu possa scomparire fisicamente dalla faccia della terra serviranno nel caso se accadrà accadrà tra svariati secoli per quanto le isole raggiungano un'altezza massima un'elevazione massima di 4 metri e mezzo sul livello del mare perché possano essere completamente inghiottite dagli oceani servirà molto più tempo di quello che delle scale temporali sulle quali si manifesta in realtà il rischio politico di Tuvalu perché il rischio è che questo territorio diventi inabitabile che quindi la popolazione sia costretta ad andarsene quindi il vero fattore la vera questione è la popolazione permanente il rischio è quello che Tuvalu diventi inabitabile questo insomma se ne può parlare più approfonditamente dopo però volevo soltanto dettagliare il profilo più giuridico della condizione all'interno della quale si muove Tuvalu poi i giuristi cercano di rintracciare delle fattispecie storiche che dimostrino che invece uno stato può essere tale senza un territorio per esempio lo stato pontificio per un periodo è stato riconosciuto come stato benché non avesse un territorio prima che acquisisse l'attuale territorio dello stato del Vaticano anche l'ordine sovrano di Malta viene citato come caso di un'istituzione internazionale che emette passaporti viene riconosciuta come sovrana benché non abbia un territorio per cui insomma i giuristi cercano anche di capire se attraverso delle sopravvivenze medievali che però sono sopravvissute appunto nell'età moderna si possa riuscire a immaginare la fattispecie del futura post-moderna post-apocalittica dello stato deterritorializzato però appunto di questo nel caso possiamo parlare dopo torniamo alle immagini ecco qualche mese dopo la visita di Guterres a Tuvalu e la foto che fa il giro del mondo di Guterres immerso nell'algun di Funafuti Simon Coffe ministro degli esteri e delle comunicazioni e della giustizia di Tuvalu compare in un video alla COP era a tempi di covid quindi non ha potuto recarsi fisicamente alla COP e allora registra un video in cui sembra parlare dal suo ufficio sono immagini che forse avete visto questa immagine gli avalsa la nomination per il premio Nobel per la pace per dire cioè è un'immagine che ha avuto grosso riscontro a livello globale lui sembra parlare dal suo ufficio e poi a un certo punto più il suo discorso si fa intenso e angoscioso più la telecamera arretra finché non rivela che in realtà Coffe sta parlando immerso nella laguna di Funafuti sullo sfondo vedete quello che rimane delle contraeree americane installate a Funafuti per per combattere la guerra nel Pacifico perché i giapponesi avevano occupato l'arcipelago delle Kiribas appena a nord di Tuvalu quindi Tuvalu era sul fronte del Pacifico ecco quindi in qualche modo di nuovo l'immagine di prodotta da Guterres qualche qualche mese prima o un paio di anni prima trova questa riappropriazione questa occasione per essere riappropriata da da Coffe tra l'altro poi parlando con Simon mi raccontava che la loro idea era quella di registrare semplicemente un video dalla spiaggia e lui non si recava in questo luogo da molto tempo Funafuti è un'isola piccolissima sono due chilometri e mezzo quadrati di superficie però è stretta e lunghissima quindi comunque questo è un luogo effettivamente cioè per arrivare qui bisogna attraversare una discarica bisogna guidare comunque sia per mezz'ora cose che si ha voglia di fare quotidianamente quindi lui non andava lì da vari anni e andando lui voleva andare lì a registrare questo video perché si ricordava che ci fosse una spiaggia invece appunto andandoci si è reso conto che non c'era più la spiaggia e registrando il video hanno installato hanno dovuto installare il palco e insomma questo mini setting sulle rocce che ha richiesto il tempo e ora che questo setting era stato montato l'acqua era salita e quindi lui si è trovato con le ginocco le gambe nell'acqua per questo motivo ora non so quanto il racconto faccia parte di una narrazione ex post che rinforza ancora di più l'idea o se effettivamente ci sia stata questa casualità degli eventi poco importa comunque perché l'immagine appunto il meme si riproduce indipendentemente dalla volontà degli attori che lo forgiano e quindi l'isola che affonda da questa volta cambia il soggetto il soggetto è un rappresentante dello stato tuvaluano che parlando a potenti da terra dice stiamo affondando e dice stiamo affondando noi ma stiamo affondando tutti quanti diciamo di nuovo il save tuvalu to save the world e dice il cambiamento climatico e l'inalzamento del livello del mare sono letali e rappresentano minacce esistenziali per tuvalu e per i paesi composti da togli le nostre isole sono sacre per noi contengono il mana del nostro popolo furono la casa dei nostri antenati sono la casa della nostra gente oggi e vogliamo che rimangano la casa della nostra gente nel futuro un messaggio chiaro carico anche di una forza morale oltre che che politica viene evocato il mana un termine polinesiano che sia diciamo un termine tecnico dell'antropologia dopo Levi Strauss che una parola delle lingue polinesiane comunque in qualche modo si può tradurre con spirito con carisma contengono appunto lo spirito del nostro del nostro popolo questa idea che la terra che il rapporto con la terra dei Tuvaluani abbia a che fare con una partecipazione spirituale non soltanto con l'abitazione di queste tepe e questo è un discorso tipico dei popoli del Pacifico è un discorso con cui tipicamente i popoli del Pacifico accompagnano le proprie rivendicazioni di sovranità e i propri gridi di allarme rispetto alla situazione contemporanea del Pacifico anche in letteratura è un tema tipico questo John Campbell è anche lui un caro amico un professore di Waikato un geografo che appunto ha scritto varie cose per ricordare soprattutto nei dibattiti in cui si specula sulle ipotesi di ricollocamento internazionale della popolazione di queste isole del Pacifico l'importanza della terra l'importanza spirituale l'importanza dei diritti di accesso consuetudinare la terra e però appunto rinforzando quest'idea che il rapporto con la terra di queste popolazioni sia in qualche modo speciale le lingue polinesiane nelle lingue polinesiane il termine per indicare la terra generalmente è molto prossimo al termine che si usa per esempio per indicare la placenta o la nascita nella lingua maori fenua vuol dire tanto terra quanto placenta tuvalu si dice fanua placenta però insomma c'è questa prossimità lessicale che in qualche modo rinforza questa questa narrazione è interessante però contrastare questa forma del discorso con quanto accade un anno dopo un anno dopo COFE che appunto ha guadagnato visibilità internazionale ha guadagnato una nomina al premio Nobel per la pace ricompare in video alla COP successiva questa volta un video diciamo meno artigianale fatto in maniera veramente impeccabile in cui sembra parlare da un isolotto incontaminato di Funafuti Funafuti è questo atollo con una laguna immensa e che è molto urbanizzato nella parte abitata e poi però questi atolli a questi isolotti perdon appunto che vengono anche raccontati come incontaminati dove però effettivamente non abita nessuno e dove i tuvaluani ritengono che sia preservata in qualche modo la la tuvalu di di un tempo ed è da lì che parla COFE solo che questa volta come la telecamera arretra ci si rende conto che lo scenario è ancora più inquietante di quello precedente lui non sta più parlando immerso nell'acqua ma sta parlando da una realtà virtuale sta parlando dal metaverso come come Mark Zuckerberg aveva da poco annunciato cioè Facebook aveva cambiato nome in meta era stata annunciata da poco il lancio del metaverso come spazio di realtà virtuale di realtà aumentata realtà virtuale quindi questa proposta gioca molto anche con un immaginario che in quel momento stava sollecitando tantissimo tutti quanti in giro per il mondo per cui anche se lui nel video non parla mai di metaverso però lo ha pubblicato su YouTube con la parola metaverso nel titolo e quindi parla da questo quest'isola che non solo è un'isola in mezzo al mare ma isola e mare sono isola essi stessi all'interno di questo universo nero inquietante con sullo sfondo il gracchiare di questi uccelli che volano in maniera inquietante su questo sfondo nero i glitch volutamente aggiunti per far vedere la precarietà di questo mondo virtuale vi invito ad andare a vedere insomma c'è questo sito che si chiama tuvalu.tv dove andare a vedere questo video effettivamente che è piuttosto impressionante e COFE annuncia il piano di trasformarsi nella prima nazione digitale anche questo un annuncio che ha molto ha un eco enorme in giro per il mondo e appunto poi il gioco con l'idea del metaverso contribuisce a aumentare ancora di più la risonanza di questa di questa proposta e dice COFE dalla COP26 quindi dall'anno precedente il mondo non ha agito ed è quindi toccato a noi popoli del Pacifico prendere l'iniziativa le proiezioni sull'aumento della temperatura rimangono ben al di sopra del del grado e mezzo preannunciato preannunciando l'imminente scomparsa di isolotti come questo abbiamo dovuto prendere le nostre misure precauzionali con il progetto Future Now mentre la nostra terra scompare non abbiamo altra scelta che diventare la prima nazione digitale del mondo quindi annuncia questo piano che rimane piuttosto vago nella sua implementazione a me è capitato anche di parlare con studenti che hanno che un studente in particolare che si sta recando in questo momento a Tuvalu per andare a fare una ricerca sul tema della nazione digitale e che mi chiedeva ma e quindi dove posso trovare le persone che lavorano a questo progetto guarda non so non volevo essere troppo scoraggiante però è un progetto ancora vago di nuovo ma perché per un paese di questo genere la visibilità e la la visibilità politica anche appunto questa diplomazia un po' un po' spettacolare è convertibile immediatamente in capitale politico perché è convertibile in attenzioni in visualizzazioni in in attenzioni che possono facilmente tramutarsi in aiuti finanziamenti borse di studio poche cioè Tuvalu è un paese che è capitato in passato barattasse voti all'ONU con tre quattro borse di studio per studenti che così si recavano a studiare in Marocco in Georgia ci sono Tuvaluani sparsi a studiare in tutto il mondo perché appunto la diplomazia di un paese così piccolo è fatta anche di questi piccoli do-des quindi queste occasioni di visibilità hanno un ritorno politico vero ecco però è interessante osservare che Kofi dice anche la nostra terra il nostro oceano la nostra cultura sono i beni più preziosi del nostro popolo e usa la parola assets e per tenerli al sicuro indipendentemente da ciò che accade nel mondo fisico li trasferiremo nel cloud ora questa notte mi sono svegliato chiedendomi se per caso non stessi fra intendendo la parola asset e se in inglese non avesse un significato più neutro di quello che gli attribuiamo in italiano allora ho fatto un po' di ricerca e ho scoperto che l'etimologia della parola asset è ad satis latino come a sé in francese vuol dire abbastanza quindi è proprio un concetto squisitamente quantitativo quindi perché è vero che in inglese si dice se si fa una lettera di motivazione si può dire sarà un asset per il team però comunque ecco l'idea è sempre piuttosto quantitativa e patrimoniale ecco è un discorso completamente o meglio diciamo per certi versi parallelo che ricalca delle forme dei temi la questione della terra la questione della sovranità la questione di preservare un attaccamento al territorio ma non più alla terra però no c'è questa differenza radicale rispetto all'annuncio dell'anno prima cioè in questo caso non ne va più di questo legame spirituale con la terra ma di un legame in qualche modo patrimoniale con il territorio per capire però qual è la vera posta in gioco di questa questione bisogna bisogna sapere questa cosa questo è un articolo del Washington Post che dice Tuvalu è una piccola nazione insulare di 11.000 persone e sta guadagnando grazie a Twitch ora Twitch è una social network di streamer molto insomma che è esploso negli ultimi cinque anni e Tuvalu ha il suffisso internet punto tv è il suffisso internet di Tuvalu cioè quando vedete un sito punto tv non vuol dire televisione ma vuol dire Tuvalu e quindi Tuvalu fa tra il 15 il 20% del proprio PIL affittando questo suffisso internet in particolare questo articolo a me piace sempre citarlo perché questa è un'operazione di greenwashing totale perché sia Twitch che il Washington Post sono di proprietà di Jeff Bezos quindi questo è Jeff Bezos che scrive sul suo giornale che Jeff Bezos salva la piccola nazione insulare di Tuvalu cioè questo loop folle e ah qua scusate ma ho fatto ho fatto un po' di confusione con le con le slide beh dopo torno su questa cosa del punto tv l'altro modo in cui Tuvalu guadagna in maniera dal punto di vista proprio patrimoniale dei flussi economici dalla propria condizione di stato sovrano è attraverso la zona economica esclusiva questa è una mappa della zona economica esclusiva la zona economica esclusiva è nel diritto internazionale si definisce zona economica esclusiva la porzione di mare riacente alle acque territoriali che può estendersi fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base dalle quali è misurata l'ampiezza del mare territoriale insomma nel 1982 c'è la convenzione sulla legge del mare delle nazioni unite che stabilisce che ciascun paese ha diritto a sfruttare economicamente le prime 200 miglia nautiche di mare a partire dalle proprie coste a bassa marea e Tuvalu questa è una classifica diciamo se non si vede comunque è una classifica di tutti i paesi del mondo nel rapporto mare-terra e il motivo per cui l'ho messa è perché Tuvalu è prima nel rapporto terra-ma cioè è il paese che ha meno terra in rapporto al mare o più mare in rapporto alla terra quindi in qualche modo è il paese che maggiormente cioè che tende maggiormente all'estremo l'immaginazione continentale che è molto legata alla nostra concezione della sovranità cioè se le mitologie politiche fanno risalire il concetto contemporaneo sovranità al trattato di Vesfalia quindi comunque all'Europa continentale ecco Tuvalu è uno fratto quella cosa lì esattamente il contrario è acqua siccome vedete insomma tutti i paesi insulari grossomodo sono 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 lassù in questa classifica è interessante notare che la Francia è molto più su di quanto si potrebbe immaginare in questa classifica perché oltre ad avere i vari territori di oltremare però la Francia ha anche un atollo in mezzo all'oceano pacifico disabitato che però di genera centinaia di migliaia di chilometri quadrati di zona economica esclusiva e quindi Tuvalu come? no non credo non mi ricordo come si chiama ma è un atollo però appunto non abitato che non fa parte di nessun territorio come? neanche credo credo che lì non abbiamo fatto neanche test è una storia che dovrei recuperare però il punto è che Tuvalu vende permessi di pesca ai paesi soprattutto del sud-est asiatico per pescare in queste in queste acque ci sono questioni molto interessanti nelle quali bisognerebbe entrare ma potrebbe fare un'altra sede su però come faccia Tuvalu a scoprire se qualcuno pesca nelle sue acque oppure no considerato che è appunto un paese di 11.000 abitanti con un pil bassissimo 750.000 chilometri quadrati quindi Tuvalu in parte delega anzi delega all'Australia il controllo appunto della pesca clandestina ha un battello finanziato da paesi stranieri tramite aiuti internazionali con i quali appunto svolgono questi pattugliamenti però interessante perché anche in questo caso l'enforcement della sovranità dipende da risorse straniere in qualche modo dipende da risorse da assistenza di paesi esteri tra questi paesi esteri questo è un altro modo in cui Tuvalu diciamo cash in guadagna dalla propria sovranità tra questi paesi esteri che sostengono Tuvalu c'è Taiwan Tuvalu è rimasto uno degli ultimi alleati nel pacifico di Taiwan alla vigilia di ogni elezione io sono appena tornato da Tuvalu sono stato là per osservare appunto le elezioni politiche che sono una cosa molto interessante da osservare in un posto del genere alla vigilia di ogni elezione c'è un ministro che dice ma forse però dovremmo rivedere i nostri legami con Taiwan e quindi Taiwan in qualche modo aggiunge qualche milione alle proprie contribuzioni annuali e c'è sempre questo equilibrio di geopolitica in cui il confine tra pubblico privato tra capitale e sovranità è totalmente labile e da quello dipende la sovranità del paese in qualche modo ecco questo è la foto che normalmente metto in queste presentazioni questo è il nostro presente del consiglio come è messo chiamato ad Atreiu che è il festival dei giovani di alleanza nazionale all'epoca credo fondato da lei quando era una giovane attivista è interessante che questo festival sovranista ha il suffisso internet punto tv che quindi in qualche modo c'è Tuvalu dentro loro non lo sa nessuno probabilmente però è così anche qualche anno fa quando Franceschini era ministro della cultura lanciò l'ipotesi di questa Netflix della cultura italiana che era punto tv quindi questo progetto sovranista cioè di di sovranità culturale con questo suffisso internet straniero però sufficientemente esotico per essere sconosciuto e Tuvalu ha celebrato con un francobollo la propria cioè il punto tv perché grazie a questa faccenda del suffisso internet punto tv Tuvalu è riuscito a comprare un seggio all'ONU perché comunque avere un seggio all'ONU ha dei costi di mantenimento che per un paese del genere non sono cioè sono considerevoli quindi Tuvalu è indipendente dal 78 ma è nell'ONU soltanto dal 2000 grazie all'improvvisa scoperta che potevano guadagnare soldi tramite questa scoperta tra l'altro totalmente che non dipende non ha di peso da loro perché c'è un'agenzia internazionale che in quel momento ha distribuito i suffissi internet e quindi per caso Tuvalu si è trovato a punto tv ci sono altri casi c'è adesso recentemente c'è quest'isola che si chiama credo Anghia in centro America che ha il suffisso internet punto AI quindi con l'intelligenza artificiale c'è stato un boom oppure Djiboutia punto DJ ci sono una serie di i federal states of Micronesia beh per qualche motivo spesso sono stati insulari questi però gli stati federati di Micronesia hanno punto FM quindi non so se vi ricordate last FM prima di Spotify era last punto stati federati di Micronesia quando si capisce questa cosa non si vede più il mondo alla stessa in effetti il punto però qual è che se cioè nel senso a loro questa cosa vale credo mi pare 12 milioni di dollari all'anno cioè una cosa che per un paese diciamo grosso non avrebbe nessun genere di ritorno commerciale economico però per un paese di 11 mila abitanti 12 milioni di cioè un aumento di 1000 euro pro capite del PIL ecco anche siti di scommesse bwin.tv questo perché perché in Italia o in Europa non so c'è una legge che impedisce di fare pubblicità ai siti di scommesse quindi i siti di scommesse cosa fanno creano dei siti paralleli di informazione e fanno pubblicità a questi siti di informazione che in realtà sono siti su cui loro vogliono portarti unicamente per poi portarti sui siti di scommesse quindi per esempio bwin.tv dietro a Brozovic manifesta cioè è la pubblicità appunto di questo sito che poi ha l'obiettivo di spostarti sul sito di scommesse e quindi appunto ecco ho cercato di partendo dall'isola dall'isola che affonda ho cercato di diciamo denaturalizzare quell'immaginario cercando di di evidenziare da un lato le politiche attraverso le quali quell'immagine viene creata tanto da in una dialettica tra agency locale e vari attori internazionali di volta in volta coinvolti e poi ho anche cercato di mostrare come questo questa rappresentazione abbia delle implicazioni politiche per Tuvalu e come il governo di Tuvalu cerchi in qualche modo di riappropriarsene e però come dicevo prima l'altro modo per mettere a tema la questione è mostrare le poste in gioco politico-economiche che stanno dietro a questa questione cioè l'idea della nazione digitale l'idea di appunto digitalizzare il territorio del paese archiviare la cultura nel video Cofe annunciava creeremo degli archivi online della nostra cultura in modo che le generazioni future possano conoscerla in modo che possiamo tramandarla alle generazioni future digitalizzeremo la burocrazia in modo che lo Stato possa continuare a funzionare come uno Stato anche una volta che la popolazione sia sparpagliata in giro per il mondo o ricollocata in massa in un qualche altro paese ecco questa immaginazione da un lato tende all'estremo l'immaginazione territoriale che noi ereditiamo dalla modernità quindi appunto come dicevo prima Westfalia la sovranità come sovranità territoriale di unità politiche recintate chiuse delimitate spaziali ecco il territorio il paradosso è che il territorio della nazione digitale tende questo questo immaginario all'estremo è pura spazialità spazialità così pura che non si compromette con la materia però è così è pura virtualità dello spazio e quindi è un doppio movimento da un lato compie questo immaginario alla sua purezza dall'altro lo fa esplodere e appunto nel titolo il sottotitolo di questa presentazione ho messo la parola infrastruttura perché insomma sto cominciando adesso a cercare di applicare questa lente alla questione di Tuvalo e mi piaceva che questa fosse una prima occasione per farlo Lee Star grande sociologa che si è occupata di fare etnografie dell'infrastruttura e scrive questa frase interessante dice l'infrastruttura diviene visibile quando smette di funzionare infrastructure becomes visible upon breakdown e in qualche modo il la la fine la fine immaginata dello stato a Tuvalu che è un evento globale perché appunto gli stati per come li conosciamo come dicevo prima non scompaiono per ragioni fisiche scompaiono per ragioni politiche nella storia moderna gli unici motivi per cui gli stati sono previsti come stato possa scomparire sono ragioni politiche ecco questo evento anche anche se non si sa se accadrà come accadrà quando accadrà ma proprio la sola manifestazione ipotetica di questo evento fa emergere l'infrastruttura cioè l'infrastruttura le premesse della sovranità le premesse materiali della sovranità spesso la sovranità viene trattata come una questione puramente normativa anche il modo in cui talvolta viene evocata quella convenzione di Montevideo che citavo prima viene evocata come una definizione che dovrebbe identificare uno stato di cose oggettivo e che una volta identificato acquisirebbe la sanzione politico istituzionale legale di stato sovrano ecco portare alla luce l'infrastruttura significa anche in qualche modo mostrare come la sovranità non può essere ridotta né a una questione di pure definizioni né a una questione di pura fattualità ma va in qualche modo ricondotta a uno spazio intermedio tra questi due poli poi scritto spostare l'attenzione sulle infrastrutture aiuta a evitare tanto un normativismo astratto quanto un naturalismo ingenuo se le riflessioni sulla sovranità sollecitano un universo binario sovrano non sovrano per come siamo abituati a pensare alla sovranità la sovranità cioè uno stato o è sovrano o non è sovrano una porzione di territorio o appartiene a uno stato o appartiene a un altro oppure è contesa ma se è contesa è una situazione immaginata come temporanea e che si risolverà in maniera binaria privato pubblico di nuovo parlare di infrastrutture significa anche spostare noi siamo abituati a pensare la sovranità come internazione del pubblico e il privato come una dimensione che appartiene a un'altra a un'altra sfera del politico però per esempio la situazione della nazione digitale sollecita la questione ma anche qualora Tuvalu riuscisse a preservare la propria statualità cioè anche se Tuvalu continuasse a essere riconosciuto come stato dalla comunità internazionale avesse un seggio all'ONU anche nello scenario in cui l'arcipelago fosse divenuto inabitabile però questo questo cloud sul quale il territorio la cultura e la burocrazia di Tuvalu vanno immaginati stipati su quale territorio sarebbe di chi sarebbe proprietà si aprono delle questioni proprio appunto di proprietà dell'infrastruttura secondo me radicali e oltretutto appunto questo stato totalmente patrimonializzato questo stato trasformato in apparato per per gestire questa rendita questa rendita appunto della zona economica esclusiva del suffisso internet come possiamo immaginarlo è chiaro che ancora non ce lo si può immaginare però solletica l'immaginazione quindi cosa Tuvalu diventerebbe una un'azienda fondamentalmente bisogna immaginarsi questi cittadini shareholders sparpagliati in giro per il mondo che ogni anno ricevono la propria quota di partecipazione alla zona economica esclusiva di questo paese che esiste soltanto nel metaverso sono domande che però appunto spostano la questione della della sovranità da l'immaginario naturalistico sul quale stava depositata nella storia moderna appunto terra mare è l'altra dicotomia che ho evocato si pensi a Carl Schmitt che tra l'altro anche ragionando su Venezia proprio scriveva terra e mare come i due elementi pensare all'infrastruttura vuol dire anche pensare una dimensione intermedia da terra e mare perché intanto il territorio come dimostra bene la zona economica esclusiva il territorio non è né terra né mare è una dimensione che cede questa dicotomia perché territorio come il caso di Tuvalu mostra bene la rilevanza del territorio è una rilevanza politica economica ha a che fare con la possibilità di avanzare pretese di esclusività non ha a che fare con la consistenza di un elemento ecco e appunto ecco questa è la foto che ho messo nella locandina e sulla quale mi piaceva chiudere con queste riflessioni perché appunto questa è una foto forse non è immediata da decifrare se non la se non viene spiegata però anche per quello secondo me è affascinante perché questa passerella quando io ero stato a Tuvalu nel 2019 affacciava sul mare e l'ultima volta che sono stato quest'anno affaccia su questa specie di deserto su questo dune polinesiano che è una porzione di terra artificiale che è stata creata dragando il fondo della laguna di Funafuti e quindi anche cancellando gli ultimi centinaia di metri di spiaggia dell'isola e riempiendo sacchi di sabbia che fanno in qualche modo da muro per impedire l'erosione e poi riempita con fondale della laguna e ha creato questa terra sulla quale già vengono avanzati diciamo pretese di proprietà cioè è terra dello stato è terra degli abitanti dell'isola c'è una questione aperta attorno a questo a questo problema e poi sullo sfondo vedete quella linea più scura è il mare quella è la laguna di Funafuti che si vede appena oltre questa porzione di terra artificiale con le navi da pesca che appunto stazionano nella laguna poi hanno queste sono le navi madri che stazionano nella laguna per qualche mese o qualche settimana poi ci sono le navi più piccole che escono e vanno a pescare e poi tornano e queste sono navi che congelano immediatamente il pesce e lo tengono per tutto il tempo necessario quindi in questa foto in qualche modo stanno racchiuse queste dimensioni cioè questa infrastruttura costruita da un lato per proteggere per proteggere l'isola dall'altro però anche per alzarla e per immaginare che possa sopravvivere a questo che possa continuare a sbucare dall'acqua ancora per un po' diciamo e che quindi possa generare zona economica esclusiva e quindi continuare a rendere profittevole per i tuvaluani il traffico di navi da pesca e quindi appunto queste le domande che evocavo prima che cos'è un territorio se non è più legato a una popolazione che lo abita in cosa si trasforma uno stato se diventa un'entità virtuale appunto legata soltanto allo sfruttamento patrimoniale di risorse sovrane di assets e chi possiede le infrastrutture che consentono a tuvalu di essere sovrano che consentiranno a tuvalu ma che consentono anche oggi cioè con quali soldi vengono fatti questi progetti in quali relazioni deve compromettersi il paese per poter fare questi progetti di land reclamation di terra artificiale per esempio se la Cina arrivasse proponendosi di innalzare tuvalu di 10 metri in cambio di cambio del riconoscimento politico che ora tuvalu da Taiwan cosa succederebbe come avrebbe che tipo di implicazioni questo potrebbe avere sulla geopolitica globale perché appunto Nova Zelanda Australia Stati Uniti invece vogliono che tuvalu continui a riconoscere Taiwan ecco quindi secondo me volevo chiudere questo intervento sulle infrastrutture perché secondo me è una 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 lente attraverso la quale si possono visualizzare in modo più mondano e realistico e quindi anche etnografabile le questioni attorno alla solennità di tuvalu grazie mille grazie mille Nicola una presentazione direi geniale insomma molto interessante piena di colpi di scena che io ho apprezzato in particolare devo dire per due aspetti tra molti altri uno per un laturiano come te puntare l'attenzione sulla differenza dell'isola che affonda oppure che viene sommersa insomma l'agency qua è molto diversa una sfumatura linguistica ma in realtà si ottende delle implicazioni di agency molto importanti e poi ho apprezzato veramente la tua capacità anche la tua creatività in un certo senso di fare proprio un percorso etnografico che ci porta dal piccolo e perdonatemi sono una amante delle cose molto piccole mi occupo di un progetto di micro quindi partire dal veramente piccolo questa piccola isola e invece portarci in questo percorso etnografico che ci fa vedere tante altre cose che ci fa vedere l'economia politica del digitale tra l'altro mi domando che cosa diviene il mana poi nel cloud e farci vedere questi appunto anche nella tua conclusione poi lo ricordi queste geopolitiche poi globali quindi dal piccolo ci sono tante ramificazioni che ci interrogano a più livelli e a più scale quindi ti ringrazio tantissimo Nicola e aprirei questa discussione anche alle persone che ci seguono da casa e al nostro pubblico voglio solo menzionare che oggi nel pubblico abbiamo anche Pietro Consolandi ricercatore tra in un partenariato tra Nish e Ocean Space che si occupa appunto di questioni legate alla laguna quindi sarebbe bello magari avere anche un tuo commento di modo che possiamo avviare anche un dialogo in chiave comparativa con Nicola abbiamo anche Sara Agnelli che ci visita questa settimana dall'Università della Florida e ha ricevuto un finanziamento proprio per visitare Nish e creare delle sinergie e delle collaborazioni Sara Agnelli è una classicista si occupa e lavora in un dipartimento di Environmental Humanities e appunto questo tema che oggi Nicola ha presentato è di rilevanza anche per l'Università della Florida perché anche lì c'è esattamente questo problema di territori che poi sono sinking o sommersi vediamo un po' dalle acque e quindi insomma molto interessante anche con Sara se avremo magari la possibilità se puoi un po' commentare e dialogare con Nicola grazie 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 mille puoi iniziare magari se vieni qua perché così sentono bene anche qua grande Nicola bravo si metti la slide di Brozovic no non è vero non è vero no molto bello io ho già sentito più volte te parlare di Tuvalu e dell'Oceania e una cosa pregressa è che io faccio parte anche di un gruppo che si chiama Barena Bianca insieme a Fabio che sta qua e l'idea per cui abbiamo iniziato a parlare era proprio di creare una connessione fra la laguna e l'Oceano Pacifico sulla base che queste sono isole ma in realtà sono anche lagune quindi hanno questa zona di forte agency comunque che nel caso di Venezia supporta proprio la città Venezia non sarebbe stata costruita qua senza la laguna e anche la la vita e la cultura di Tuvalu che emerge da queste atolle più che ed è in dialogo con l'oceano una cosa interessante che anche pensando alla biennale di adesso che stavo pensando è come spesso da un punto di vista internazionale l'Occidente insomma e anche la narrazione che le Nazioni Unite fanno di questi spazi come di Venezia è di questo wishful thinking questa questa idea abbastanza deprimente in realtà di come si deve fare di questo fatto di affondare o di venire sommersi viene sfruttato per ottenere finanziamenti ottenere visibilità quindi creare una narrazione del territorio e della cultura che abita questo territorio funzionale poi a come ci si vende in un certo modo e di come questo spesso viene anche tokenizzato in un certo modo siamo qui parliamo di culture pacifiche per quello che noi vogliamo proiettare su queste culture pacifiche volevo farti semplicemente una domanda su questo quest'idea di in un certo modo decolonizzare questa visione che appiattisce l'idea di Tuvalu per esempio o di Venezia e se ci sono strategie che vengono da là per cercare non solo di sfruttare questo wishful thinking ma di di usarlo per proporre nuovi principi quindi certo ce ne possiamo andare tutti nel metaverso ma al contempo come questa nostra conoscenza che è in dialogo con l'oceano può contribuire magari a dei nuovi principi legali a cambiare quest'idea queste idee monolitiche continentali di policy making sì o no o è solo un ragionamento utilitarista grazie pietro beh tra l'altro mi fa venire in mente una cosa appunto Tuvalu faccio questa premessa e poi rispondo alla domanda Tuvalu è un luogo così piccolo così così particolare da un punto di vista storico geografico che detiene una serie di record come dicevo prima è il paese con più acqua rispetto alla terra il paese uno dei record che detiene è il fatto di essere secondo certe classiche il paese meno visitato del mondo perché per andarci servono un sacco di soldi un sacco di tempo quando si va là non c'è niente da fare perché non è un posto adibito per i turisti non ci sono le spiagge non c'è quindi i turisti che vanno a Tuvalu cioè regolarmente su ogni aereo ci sono cinque turisti sette turisti che vanno lì perché vogliono andare e cosiddette fare un video su youtube andare nel paese meno visitato del mondo se cercate su youtube visit the least visited country in the world ci sono una serie di è un format proprio di persone che che vanno o a Tuvalu oppure a Nauru perché in altre classifiche è Nauru il paese meno visitato quindi a seconda della classifica che hanno consultato gli youtuber questo per dire che è una invece una condizione che segna una distanza enorme da Venezia pur nello stesso su uno sfondo comune quindi anche due modi di patrimonializzare la condizione molto diversi perché sì Tuvalu magari avrà tratto qualche turista in più con quest'idea che possa scomparire però si parla di numeri molto esigui mentre Venezia immagino che anche nel nel turismo internazionale il fatto che Venezia sia in pericolo accresca ulteriormente l'attrattività del luogo sulla questione è difficile a dirsi perché diciamo che è molto difficile distinguere la dimensione diciamo strategica del discorso da una dimensione che non lo sia e forse però è anche è anche pretestuoso cercare di farlo nel senso che appunto Tuvalu è diventato uno stato facendo così riuscendo a approfittare di questi piccoli anfratti nella della comunità internazionale per riuscire a creare questa situazione di cui all'inizio tutti erano scettici l'idea che un paese di 11.000 persone con un territorio così sparpagliato potesse effettivamente riuscire a sostenere la condizione di statualità per esempio Tuvalu per esempio è uno dei più grandi promotori della chiamiamola territorializzazione del mare cioè appunto di questa concezione del mare come chiuso come come territorio come parte dei territori dello Stato al punto che uno dei modi in cui Tuvalu cerca di portare avanti quest'idea dello Stato deterritorializzato della sopravvivenza dello Stato alla sparizione della scomparsa dell'arcipelago è rendendo le delimitazioni delle zone economiche esclusive fisse una volta per sempre mentre adesso la zona economica esclusiva è influenzata da quello che succede al territorio per esempio Giappone ha degli isolotti sperduti che generano centinaia di migliaia di chilometri quadrati di zona economica esclusiva che correvano il rischio di finire sott'acqua attorno ai quali ha costruito delle mura letteralmente per fare in modo che rimanessero elevati e continuassero a generare zona economica esclusiva ecco Tuvalu uno dei modi una delle battaglie decoloniali loro postcoloniali che loro rivendicano come tali è fissare questi confini una volta per tutti che però appunto dal nostro punto di vista potrebbe essere invece interpretato come un rinforzare ulteriormente quell'infrastruttura di origine coloniale della sovranità come territoriale disegnata la mappa che è il territorio e non che non è il territorio cioè il territorio che è la mappa il territorio non c'è più niente sotto la mappa l'altra cosa che mi veniva da citare in relazione a questo è il fatto che per esempio recentemente Tuvalu è finita sui giornali di tutto il mondo anche in Italia se ne è parlato perché il governo ha firmato un accordo con il governo australiano con il nuovo governo australiano lavorista un accordo che si chiama Fallepili Union Fallepili in Tuvaluano significa il vicino il vicino di casa c'è una polemica tra intellettuali tuvaluani per esempio il nostro comune amico Mai Natalia che adesso è ministro della local government a Tuvalu che è intervenuto qualche anno fa a un evento di Ocean Space se non sbaglio che è un ricercatore è un teologo ha finito da poco il suo dottorato in teologia e lui nella sua tesi di dottorato nel Pacifico molto del discorso diciamo delle rivendicazioni indigene vengono portate avanti attraverso un discorso teologico in cui teologia e geopolitica dialogano quindi lui ha scritto una tesi per esempio sul concetto di Tuakoi Tuakoi è il vicino invece nel senso cristiano il neighbor il prossimo quindi c'è questa contrapposizione diciamo anche proprio dentro nell'intelligenza Tuvaluana tra il Fale Pili e il Tuakoi come due modi diversi di intendere il vicinato uno più eticamente connotato e uno invece più geografico spaziale ecco questo Fale Pili Union è questo trattato firmato all'isole Cook dopo l'ultimo incontro dei leader al forum al Pacific Island Forum in cui sostanzialmente l'Australia si impegna ad accettare sul proprio territorio cioè a concedere visti permanenti a 280 Tuvaluani all'anno 280 sono tantissimi considerato che la popolazione sono 11.000 persone quindi concedere visti permanenti che poi insomma destinati a rendere queste persone cittadini australiani in cambio di è ancora confuso ma diciamo che quello che Tuvalu offre in cambio è una qualche una qualche qualche grado di diritto di veto dell'Australia sulle decisioni di politica estera di Tuvalu quindi di nuovo la Cina Taiwan sono queste cose all'orizzonte questo è un è un trattato che è stato criticato da molti come un trattato neocoloniale in passato in Australia erano state origliate conversazioni private di ministri o politici comunque diciamo del partito di centrodestra come si dice oggi comunque di destra che dicevano circolava questa proposta di annettere Tuvalu era proposto di annettere Tuvalu così loro diventano australiani noi ci prendiamo la zona economica esclusiva una bella annessione territoriale in qualche modo questo trattato sembra evocare quel genere di immaginario neocoloniale io quando sono stato a Tuvalu poi sono andato in Nuova Zelanda e ho risalito un po' le reti all'interno delle quali questo trattato era stato immaginato scritto ho cercato di fare un po' di ricerca su come è stato qual è stata l'origine di questo trattato e è stata un'origine tuvaluana è stato il primo ministro che a un certo punto ha avuto quest'idea e ha convocato un gruppo di esperti internazionali gli esperti tuvaluani internazionali cioè di esperti della diaspora persone che avevano c'erano tre tuvaluani che lavoravano uno è l'attuale primo ministro di Tuvalu che all'epoca un burocrate pubblico di altissimo profilo nel pacifico e altri due che avevano lavorato per il governo neozelandese per molti anni vivevano in Nuova Zelanda e quindi poi dopo ci sono state delle questioni interne di litigi per cui questo trattato è stato portato alla firma in maniera un po' troppo rapida e quindi quello che mi veniva raccontato dalle persone con cui parlavo era che se gli intenti iniziali nell'intento iniziale le cose sarebbero dovute essere più chiare che c'era un po' di preoccupazione rispetto a questo accordo che era stato firmato più per urgenza elettorale del ministro che l'aveva sponsorizzato che non per corrispondere alla volontà politica che aveva motivato questo però per dire che questo è un trattato con un nome indigeno tuvaluano appunto falle più l'union che in qualche modo si propone di un trattato di vicinato brandizzato come un trattato motivato da una visione della geopolitica diciamo di stampo indigeno che però appunto viene criticato poi dagli osservatori internazionali come invece occasione neocoloniale di 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 interferenza australiana sulle faccine interne di tuvalu poi bisogna anche chiedersi però c'è una specie di diritto di veto di fatto l'Australia la Nuova Zelanda questi paesi ce l'hanno già con tuvalu perché il livello di dipendenza economica politica militare con questi paesi è tale e non è immaginabile una situazione diversa perché la sovranità tuvalu non può essere pensata come indipendenza può solo essere concepita come dipendenza misurata controllata sorvegliata però è inimmaginabile una tuvalu effettivamente autosufficiente ecco da un punto di vista geopolitico economico quindi ecco aggiungevo questo dettaglio del trattato per dire che è veramente molto difficile capire distinguere la strategia dal tentativo di portare avanti appunto un modo indigeno di fare politica estera 32 taiwanesi questa è una cosa interessante non sono proprio un esperto di questa cosa c'è una mia amica una persona che conosco bene che è una ricercatrice statunitense che lei è esperta di queste cose ha fatto una tesi di dottorato sui rapporti diplomatici tra tuvalu e taiwan lei ha lavorato come come interprete di mandarino per l'ambasciatore tuvaluano a taiwan per tanti anni e poi ha lavorato per il governo di tuvalu però ecco non c'è non credo che ci sia uno scambio intellettuale forte tra appunto intellettuali taiwanesi e intellettuali tuvaluani le persone che poi diventano intellettuali pubblici di tuvalu come la persona di cui parlavo prima come anche Simon Koff il ministro di qui sopra molti di loro hanno studiato taiwan perché taiwan offre borse di studio tra l'altro anche in theological college quindi per persone che studiano come molti degli intellettuali tuvaluani fanno che vanno a studiare teologia o divinity e quindi sì 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 quindi diciamo che taiwan è uno dei luoghi di formazione del di un cosmopolitismo tuvaluano sicuramente i rapporti diretti di scambio intellettuale di dialogo tra intellettuali non ne sono al corrente però non sono esperto della cosa sì sì no esatto una cosa per esempio che emerge a taiwan c'è un discorso condotto in mandarino molto sprezzante rispetto per esempio a tuvalu e agli alleati nel pacifico che sono considerati come alleati strumentali pretenziosi e e però c'è un discorso pubblico invece fondato sulla solidarietà sull'origine taiwanese dei popoli indigeni del pacifico semplicemente realizzata tramite lo switch linguistico e questa è una delle cose che ha denunciato appunto Jess Marinaccio questa ricercatrice di cui parlavo prima in qualche modo ha mostrato appunto come il discorso interno taiwanese fosse molto in contraddizione con le pratiche e anche il modo in cui queste pratiche vengono rivendicate a livello globale quindi poi c'è da dire che per esempio appunto io parlando con le persone a tuvalu durante le lezioni perché c'è stata questa situazione e questo è uno dei motivi che mi hanno portato a pensare alle infrastrutture a tuvalu non ci sono partiti politici per cui ogni isola elegge due rappresentanti che poi si incontrano nella capitale e formano il Parlamento e il Governo il Governo è formato da una parte i ministri sono membri del Parlamento qui c'è una dimensione logistica pazzesca perché normalmente le due barche del Governo vanno e raccolgono le persone elette e poi se una barca arriva prima aspetta l'altra perché tutti devono sbarcare allo stesso momento nella capitale per potersi incontrare perché deve essere un evento nel quale loro devono essere teletrasportati cioè devono comparire allo stesso momento in modo che possa essere fair il dialogo e la mia idea di andare a vedere le elezioni questa volta nasceva dal dal fatto che secondo i piani del Governo ci sarebbe dovuto essere un collegamento aereo interno a Tuvalu in questo questo momento e quindi ero curioso di vedere come l'aereo avrebbe cambiato la logistica delle elezioni e non solo non c'era l'aereo ma non c'era neanche la barca perché una barca era danneggiata l'altra barca era a farsi riparare quindi c'era soltanto una barca presa in prestito dalle Kiribas su cui nessuno voleva salire perché dicevano che era tremenda un'altra barca tenuta assieme con lo scotch che è arrivata dalle Figi il giorno prima delle elezioni hanno trovato dei ragazzi che avevano della marijuana e hanno sequestrato la barca per traffico internazionale di droga poi c'è stato un tempo atmosferico tremendo che ha reso difficilissimi i trasporti quindi questa barca ha preso fuoco Maina appunto mi raccontava che mentre lui andava verso la capitale dopo aver vinto le elezioni la barca ha preso fuoco hanno avuto paura c'è una situazione allucinante e c'è voluto un mese per portare i rappresentanti eletti nella capitale il teletrasporto è stato farraginoso a questo giro al punto che si immaginava di formare il governo su Zoom comunque c'è stato molto tempo per riflettere sulle elezioni per cui io parlavo con le persone e evocando la questione Taiwan Cina riscontravo che la paura della Cina cioè il motivo per cui alcune di queste persone avevano paura dell'ipotesi che il governo riconoscesse Pechino è legato a una propaganda occidentale ma però degli anni 60 perché avevano paura del comunismo cioè ma del comunismo cioè proprio è esatto sì esatto un po' un immaginario geopolitico completamente da guerra fredda ancora che evidentemente però funziona poi appunto in un luogo in cui non ci sono partiti politici in cui quindi anche l'idea di comunismo è un'idea completamente estranea a qualunque genere di discorso politico locale non è contestualizzata in uno spettro politico destra sinistra per cui è interessante come poi ovviamente c'è tutto l'immaginario sulla presenza cinese nel Pacifico e per cui lo stereotipo è che il governo cinese compromette i governi del Pacifico che promette di aiutare in prestiti miliardari che poi alla fine dei conti costringono questi paesi a svendere le proprie infrastrutture al governo cinese poi lo stereotipo che i cinesi fanno lavori di bassa qualità che non impedisce a Tuvalu di commissionare comunque la realizzazione delle proprie infrastrutture non al governo ma ad aziende cinesi quindi c'è tutto un circolo insomma anche lì molto difficile da sciogliere lungo la dicotomia sovrano non sovrano pubblico privato questo direi non so se si può definire più metodologica se la tua ricerca si possa definire interdisciplinare cioè se nel percorso della tua ricerca hai trovato delle collaborazioni disciplinari più utili di altre oppure quali collaborazioni ti potrebbero essere utili questa sì allora beh diciamo che io definisco sempre la mia ricerca interdisciplinare perché ma semplicemente perché i miei riferimenti teorici sono un po' sparpagliati perché io vengo da un percorso interdisciplinare ho studiato sociologia e relazioni internazionali prima di studiare antropologia ho fatto anche un master in diritto economia comparati quindi poi appunto ho coltivato questo interesse per la tour Isabel Stengers quindi discorsi a cavallo tra l'epistemologia le scienze sociali senza mai preoccuparmi di cercare una coerenza disciplinare in questa cosa cercando coerenza tematica e Tuvalu mi ha offerto una potente coerenza tematica cioè un luogo in cui i miei interessi di diritto di scienze politiche di antropologia stanno insieme in un oggetto che non permetterebbe di separare quegli sguardi ecco quindi quindi sì da questo punto di vista la definisco interdisciplinare di un'interdisciplinarità forse in un qualche in qualche misura in genna non so come dire inconsapevole nel senso che non necessariamente sono consapevole degli steccati disciplinari che attraverso ecco questo poi anche una preparazione infatti era questa la mia domanda per non farti esplicitamente che cosa hai studiato prima perché chiaramente tu hai parlato solo di antropologo però chiaramente vai spesso anche nella parte più politica per cui hai parlato delle tue diverse expertise che ti sono venute a favore durante la tua ricerca quindi hai mai avuto quanto è durata quanto il tuo percorso ah innanzitutto come sei finito a tua parte allora ecco perché l'altra cosa è che diciamo i primi temi su cui ho lavorato da antropologo sono stati i temi legati alla migrazione a Torino lavoravo con Roberto Beneduce che poi è stato anche mio supervisor di dottorato che lui insomma è un etnopsichiatra che si è occupato molto di antropologo etnopsichiatra che si è occupato molto di migrazione di salute mentale e quindi anche diciamo il mio interesse verso la sovranità per dire da un punto di vista antropologico arrivava da quel da quel mondo lì quindi per esempio ho fatto una ricerca sul CPR di Torino su come i confini si scrivono sui corpi delle persone quelle cose lì e spostandomi a fare ricerca cioè al tempo stesso mi ero interessata la questione ecologica attraverso la sociologia della scienza cioè faccio confesso la mia genealogia io studiavo a Trento ho studiato un corso di sociologia del lavoro in cui ho letto un libro intervista di Luciano Gallino in cui venivo intervistato da Paola Borgna Luciano Gallino era un mito intellettuale per molte ragioni a casa mia e quindi quando sono andato poi a Torino a fare la magistrale Gallino era in pensione però ho cercato questa Paola Borgna sua allieva che l'aveva che l'aveva intervistato in quell'occasione e ho seguito il suo corso di sociologia della scienza ho scoperto la tour mi sono appassionato di la tour ho scritto una tesi magistrale sulla tour ho seguito il seminario l'ultimo seminario fatto da Luciano Gallino prima di morire in cui presentava quello che sarebbe stato poi il suo ultimo libro che si chiamava la crisi la doppia crisi si interessava di questione ecologica e quindi in qualche modo lì ho capito che volevo interessarmi di questione ecologica poi è uscito un bando di dottorato molto prima di quanto io mi aspettassi ho dovuto scrivere un progetto in fretta e furia e ho letto degli articoli molto interessanti appunto di Carol Farbotko sul wishful thinking e allora ho detto beh provo a scrivere questo progetto di ricerca però quindi da questo punto di vista mi ci sono ritrovato un po' per caso a Tuvalu quindi senza venire da un background no no per niente e mi ci sono trovato senza un background forte di antropologia del Pacifico questa è l'altra questione che anche sui temi della migrazione ambientale che è un altro grosso tema non ne potevo parlare oggi però il dibattito della migrazione a Tuvalu è molto forte viene trattato la migrazione benché l'Oceania sia il paese con la più alta proporzione di migranti nel mondo cioè sia il continente con la più alta proporzione di migranti è un paese abbastanza estraneo nelle riflessioni fatte qui sulla migrazione per ragioni anche evidenti perché la migrazione sollecita le questioni di un'urgenza pazzesca quindi però è interessante che i dibattiti si svolgano su binari teorici molto separati quindi mi sentivo di arrivare cioè non so come di arrivare dentro quel mondo lì con una formazione diversa da quella mi mancavano molti pezzi e però avevo insomma ho portato alla fine un'esperienza che me l'ho fatto altrove dentro quei luoghi un pochino questa è stata la e quindi se ho fatto il dottorato sì io ho trascorso sei mesi in Nuova Zelanda che ho utilizzato per crearmi dei contatti poi dopo per andare a Tuvalu e poi sono stato sei mesi a Tuvalu poi sono stato un mese alle Figi sono tornato in Nuova Zelanda un paio di mesi e poi dopo l'anno scorso ho stato due mesi alle Figi in un'isola in un altro seminario però un'isola che la popolazione di una delle isole di Tuvalu ha acquistato alle Figi questi nel 46 hanno acquistato un'isola alle Figi quindi ho fatto ricerca lì e poi quest'anno appunto sono tornato a Tuvalu quindi questa è stata la no grazie appunto la mia curiosità era avendo parlato sapendo solo di te come antropologo è una ricerca molto estesa dal punto di vista disciplinare quindi ero curiosa cioè se c'era stato qualche difficoltà nel imparare altre metodologie nel no grazie grazie mille grazie mille di questa presentazione mi è molto interessante grazie mi è molto interessante giusto un commento forse verrà qualche domanda parlando non so no mi è interessato tantissimo ho trovato molto affascinante questo questo trattare Tuvalu come se fosse un paradigma di una dimensione generica quindi da una parte andare sul locale sullo specifico e poi nello stesso tempo generalizzare e portare tutto al globale è un po' il vedere Tuvalu come un avamposto di quello che potrebbe succedere nel resto del mondo quindi la scomparsa a causa dell'inalzamento delle acque e il passaggio a questa dimensione virtuale che è qualcosa che in minima parte non minima neanche troppo comunque già sta succedendo tutto quel riferimento agli archivi virtuali alla politica che viene fatta virtualmente agli incontri di Parlamento che avviene su Zoom qualcosa che non è successa perché poi appunto le caratteristiche locali in fondo premono sull'acceleratore verso un cambiamento radicale ecco e poi un'altra cosa che mi è interessata molto che forse dipende dalla tua formazione è comunque questo legame anche con il quantitativo cioè tante volte tu hai fatto riferimento a dati per esempio il rapporto del territorio con le acque territoriali la popolazione che è un po' che è sempre in discesa le migrazioni datuale migrazioni del pacifico che aumentano sempre la nazione meno visitata del mondo cioè ho sentito tanti numeri e ho già visto delle potenzialità di trasformazione in visivo questo forse dipende da vabbè qui faccio un po' pubblicità qualcosa che ho fatto io prima abbiamo fatto un lavoro qui a Venezia 15 anni fa che si chiama Micropolis che non so che conosci dove abbiamo trattato Venezia come caso paradigmatico di qualcosa che sta succedendo nel resto del mondo e quindi abbiamo eliminato tutte le caratteristiche locali di Venezia per farla diventare una generic city cioè andando contro il luogo comune per cui Venezia è una città con delle specificità una città unica irripetibile no Venezia è il paradigma dell'incontro tra due flussi globali di popolazione che sono il flusso di turisti e il flusso di migranti ecco dove la popolazione però è shrinking it's sinking and it's shrinking ecco e questo l'abbiamo trattata in modo quantitativo e appunto questa visione un po' da island study di un piccolo luogo come paradigma che esplode che fa vedere il resto del mondo mi sembra comune a questi due appoggi ecco quindi non era una domanda ma un po' sì se posso commentare su questo è assolutamente però interessante come appunto ci sia questa dialettica tra Tuvalu cioè che il discorso tuvaluano alterna momenti in cui si rinforza questa rappresentatività globale universale della condizione di Tuvalu per cui save Tuvalu to save the world siamo l'isola che sprofonda siamo il benchmark globale ha invece discorsi più diciamo di carattere più postcoloniale in cui si critica la riduzione di Tuvalu a icona globale c'è questa alternanza di queste due dimensioni perché chiaramente a seconda delle occasioni procurano capitale politico o invece lo diminuiscono quindi una cosa mentre parlavi che mi è venuta in mente che ho dimenticato di dire prima in reazione a quanto diceva Roberta effettivamente una dimensione laturiana diciamo di questa cosa è l'idea di andare a guardare dove si fanno le scale globale cioè dove il globale localizzare il globale Anna Tsing cioè l'idea risalire le reti del globale di queste rappresentazioni che hanno la pretesa di essere globali per vedere i luoghi in cui vengono prodotte appunto poi avendo il privilegio di poterci andare perché essendo il paese meno visitato del mondo benché loro dicano venite qua a vedere il cambiamento climatico non ci va nessuno perché costa troppo se conviene stare a casa a guardarlo sul computer tutto sommato no e sulla dimensione quantitativa sulla dimensione quantitativa lì credo che dipenda molto da una mia so io tendo a ricordarmi i numeri tendo a avere i numeri per me sono importanti nel figurarmi le cose nel dare valore ai dati cioè l'impostazione quantitativa mi aiuta a memorizzare le cose però fa anche parte del chiamiamolo il meme Tuvalu cioè di Kona Tuvalu questa rappresentazione pubblica un po' un po' esotista un po' che si presta a essere a entrare strumentalmente in vari discorsi globali di Tuvalu perché appunto il modo in cui viene costruita Tuvalu Isola che affonda Isola che affonda è una figura binaria no? è 0-1 perché però l'acqua è sotto l'acqua e quindi c'è una dimensione proprio puramente quantitativa di questo immaginario attorno a Tuvalu cioè Tuvalu che è appena sopra quindi no? è pura è pura differenza tra le sì è solide è solide esatto no? cioè e questi dati dell'essere il meno visitato il meno visitato quello con più mare tutti questi dati in qualche modo accrescono questa dimensione di esotismo del luogo no? e quindi in qualche modo fanno parte della prima nazione digitale c'è molto questo discorso l'altro giorno ho scoperto che Tuvalu probabilmente è il paese più omogeneo dal punto di vista religioso del Pacifico ma potenzialmente del mondo perché comunque 86% 85% della popolazione è membra della chiesa nazionale è tanto non so ci saranno dei paesi nel mondo soprattutto dove magari la religione viene caldamente suggerita da un qualche leader e in cui le proporzioni possono essere superiori però ecco nel Pacifico che è un luogo dove la religione è molto importante Tuvalu il paese più religiosamente omogeneo da un lato questo rende la dimensione anche delle eccezionalità di eccezionalità locali di questo posto rispetto anche a contesti regionali dall'altro appunto accresce questa idea di un posto molto sui generis molto esotico secondo me il fascino del lavoro sulle isole è proprio questo concetto di proporzione cioè anche la dimensione piccola contro una dimensione globale per esempio sempre la base su cui si analizza Venezia è il rapporto tra abitanti e turisti per dire quello che fa esplodere tutto il resto e tutta la ricerca è un po' anche ci sono questi rapporti continui anche perché l'isola suggerisce molto quest'idea del dentro fuori di una scala osservabile però ecco appunto è interessante l'idea di arcipelago perché invece l'idea dell'arcipelago aiuta a vedere come ma anche nel mondo degli island studies queste cose aiuta a vedere come le giurisdizioni taglino le isole o separino le isole oppure raccolgano isole che non sono contigue territorialmente appunto quest'isola che la proporzione di un'isola di Tuvalu possiede alle Figi nel territorio figiano loro sono cittadini figiani però sono culturalmente tuvaluani la proprietà della terra è di questa isola di Tuvalu quindi qui c'è un arcipelago transnazionale potenziale latente che taglia un po' che intersega questo immaginario invece dell'isola come scala come grado Z cioè come unita minima per osservare cose che si riproducono a scala globale benissimo allora io chiuderei grazie mille davvero tanto ancora Nicola e grazie a tutti voi grazie mille anche online grazie mille